È stato un Natale dal termometro bollente e fino a Capodanno l'influenza australiana potrebbe non trovare altri freni nella sua diffusione nelle Marche. In regione infatti il numero di nuovi contagi settimanali è arrivato ad una soglia di intensità seconda soltanto all'Abruzzo con un picco di quasi 22 influenzati su 1000 assistiti. Parliamo di 32.600 influenzati nella settimana tra il 12 e il 18 dicembre che fanno salire i marchigiani ad un totale di 164.000 persone a letto con febbre, tosse o raffreddore. Non ci sono per ora monitoraggi che indicano la possibilità di un calo contagi, quindi alle spalle ci sono giorni di festeggiamenti che probabilmente lasceranno qualche contagio in più. E se l'Australiana continua la sua espansione scende invece la curva dei contagi da SARS-CoV-2 complici forse i pochi tamponi molecolari antigenici ufficiali che anche l'anno scorso sono diminuiti in vista delle feste natalizie dando più spazio ai tamponi fai-da-te. Quest'anno abbiamo in più l'influenza che è particolarmente pericolosa perché dopo due anni di mascherine, dopo due anni che non siamo venuti a contatto con il virus dell'influenza, quest'anno assistiamo ad un'epidemia influenzale un pochino più grave rispetto allo stesso Covid. Il Covid circola però comunque, ma credo che siamo arrivati non più alla fase di pandemia ma alla fase di endemia, quindi dovremmo vivere ancora per tanti altri anni con questo virus e diventerà un po' come il nostro virus dell'influenza. Mascherine no, da un punto di vista di obbligo, però credo che un po' di rispetto soprattutto quando ci troviamo negli ambienti chiusi insieme a tante altre persone, utilizzare la mascherina e il distanziamento e soprattutto la sanificazione delle mani che sono il veicolo principale, credo che sia un buon comportamento da continuare a mettere in atto ancora. Per quanto riguarda i vaccini, le marche restano in ritardo sulla tabella di marcia. Infatti la copertura della quarta dose ha un tasso del 21% rispetto alla media italiana che è arrivata invece a una copertura del 28%. Rimangono gli over 65 quelli più propensi a vaccinarsi sia per l'influenza australiana sia per il coronavirus. Il consiglio principale è quello di vaccinarsi, di non temere perché i vaccini del Covid soprattutto servono per quel ceppo di Covid per il quale è stato formato. Gli ultimi, il 4 e il 5 diciamo se così le vogliamo chiamare, hanno le ultime varianti e tra l'altro anche proprio perché sono delle tipologie di vaccini diversi possono essere somministrati contemporaneamente sia il vaccino dell'influenza che il vaccino del Covid e quindi serve solamente un po' di buona volontà e di andare nei nostri centri. Grazie.